Hai sentito la radio? C'è stata una bomba in una banca, sembra che ci siano tanti morti. Un voato e una fiammata hanno letteralmente sconvolto l'edificio. Una buca di circa un metro di diaglio. Buonasera signora, sono il commissario Calabresi. Posso parlare con suo marito? Di cosa mi state accusando? Della bomba sui treni di agosto o di quella di Piazza Fontana? Si può sapere cosa volete da me? Cosa cazzo volete? Fascisti! Fascisti! Dimmi che hai sentito. A me lo puoi dire, a me lo devi dire. Altro che disgrazia. Dobbiamo assolutamente concordare con aversione. Come concordare con aversione? Suicidio come ammissione di colpevolizia. Secondo lei la giustizia è giusta? Sì signora, la giustizia è giusta. È stato un incidente o l'hanno uccisa? Da mesi si compiono attentati, seminando panico, feriti, ora anche morti. Chi ha cospirato non ha attenuanti. Nessuno ha cospirato. Un time là così, hai innescato l'esplosione a Piazza Fontana. Lo riconosci? Il problema è che io non riconosco lei, né lei né la sua giustizia. Davvero commissario, lei pensa che uomini dello Stato possano aver voluto la morte di tante vittime innocenti? Sono tante le tracole in questa storia. Una riguarda anche lei. Dimenticati di aver visto questa roba. E se ti posso dare un consiglio, dimenticati anche tutto il resto. E se ti posso dare un consiglio, dimenticati anche tutto il resto. E se ti posso dare un consiglio, dimenticati anche tutto il resto.